Dal Dal Cirignola, intonano i tifosi, ma sta diventando un coro sempre più unanime per una squadra che vince e stupisce. Piazza Gello Blu in festa, quella che si è svegliata questa mattina da capolista del girone meridionale di Lega Pro. Il successo in rimonta sul Giuliano ha concesso agli Ufantini il primato in solitaria, un traguardo seppur momentaneo inedito e storico per la compagine pugliese. A scriverlo sono ancora una volta loro, il presidente Grieco e il direttore sportivo di Toro, autori di una favola senza fine. Applausi anche al tecnico Giuseppe Raffaele e a una squadra mai doma che sa schiacciare la testa del nemico, ma sa anche ribaltare il risultato quando si ritrova in svantaggio. Non svegliateci da questa favola, perché se Cirignola ha sempre in passato avuto puntati riflettori per meri fatti di cronaca, oggi gli stessi riflettori illuminano gli occhi di una capolista che acquisisce sempre maggiori consapevolezze dal dal Cirignola.